Grazie a tutti. E soprattutto ringrazio Pinuccia per il semplice motivo che si è data come al solito da fare, con tutte le sue capacità, conoscenze, forze, mettiamocene tutte, perché veramente è arrivata a tirare giù un programma che credo interessante per tutti quanti. Allora posso iniziare col pensiero personale? Direi di sì. Io leggo perché non sono un grande oratore. Farò un riferimento personale, mia moglie è morta di cancro quattro anni fa, l'altro giorno per un caso fortuito ho recuperato dalla sua compagna di banco le foto di classe del liceo, perché stanno organizzando una mostra scolastica per 90 anni. Grazie a tutti. Come non potranno più provare i bimbi e i giovani di Gaza morti sotto i bombardamenti? Anni fa ho visitato l'ossario dell'altipiano di Asiago con i morti della prima guerra mondiale e la cosa che più mi aveva colpito era la giovane età dei caduti e le tombe senza nome. Quante famiglie non hanno potuto piangere davanti ai resti dei figli o dei congiunti? Nelle guerre ci sono aggressori ed aggrediti del momento, a seconda delle situazioni, ma non ci sono innocenti e soprattutto non ci sono vincitori. L'unica vittoria possibile è la pace o meglio la vita. Questa è una riflessione assolutamente personale. Mi scuso se non ci sono dei concetti massimi su quella guerra e via dicendo, ma sono le cose che mi sono sgorgate dal cuore. Grazie. Grazie Enzo. Noi abbiamo voluto iniziare questo corso dedicato appunto al rapporto donne e ambiente e poi Laura Cima che ne è l'ispiratrice vera, poi lei ci spiegherà e ci farà anche un'introduzione proprio sul perché di questo corso, però con una riflessione appunto proprio sulla guerra. Con la nostra sensibilità, con il nostro punto di vista, come ha fatto adesso appunto il nostro presidente Enzo, l'ingegnere Enzo Tortello, ma anche tenendo conto, e così magari vi porgo anche la mia, che tra il fare una guerra, come diceva Langer, e il subirla c'è una via di mezzo. Questa via di mezzo è appunto quella strada del dialogo, la strada della costruzione di percorsi di pace. In questo senso io inviterei tutti a rileggersi quel volumetto molto bello che fu oggetto di una premiazione della Fondazione Langer, che è un manuale di storia, la storia vista dagli altri, realizzata appunto da un palestinese e un israeliano e da un gruppo di insegnanti palestinesi e israeliani per insegnare a capire il punto di vista dell'altro. Questo è lo sforzo culturale che a mio avviso noi dobbiamo fare. Io introduco già i relatori, così dopo vediamo se ci sono ancora le persone che dovrebbero intervenire, che sono Laura Marchetti, Luisele Battaglia, ovviamente Laura Cima, ma prima introduco i relatori di questo primo incontro, tenendo conto che questi nostri incontri sono registrati, so che molti insegnanti poi lo guarderanno anche con le loro classi e quindi io vorrei proprio partire da una così rapidissima, che poi magari loro stessi diranno anche chi sono, ma una rapidissima presentazione di chi sono le nostre prime relatrici e relatori di questo ciclo di incontri. Laura Cima, nata a Torino, laureata in lettere e filosofia, docente, attivista, femminista dagli anni 70, fondatrice tra l'altro del Partito dei Verdi, impegnata nel movimento antinuclearista, è stata deputata, è stata senatrice, presidente del gruppo parlamentare dei Verdi e ha fatto parte della commissione per la parità tra uomo e donne presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi la sua esperienza è straordinaria, ma Laura Cima ha avuto anche un'esperienza diciamo amministrativa importante come assessora e vice sindaca appunto di Moncaglieri e ricordo due suoi testi che vorrei fossero anche un po' un punto di riferimento, li abbiamo messi anche nell'immagine del nostro corso e che sono uno il complesso di Penelope, le donne e il potere in Italia e l'altro molto importante perché ha fatto il quadro sull'ecofeminismo in Italia, l'ecofeminismo in Italia, le radici di una rivoluzione necessaria. E io poi la voglio ricordare, perché ho partecipato anche io alla raccolta delle firme, per una proposta di legge per me importantissima che è quella sulla riconversione dell'industria bellica in industria eco-compatibile. Ecco, qui veramente si coniugano i temi di genere, i temi della pace e i temi delle grandi sfide ambientali che oggi noi appunto affrontiamo. Presento anche il secondo relatore che è Paolo Groppo, che è qui con noi. Paolo Groppo è una figura importantissima, ha lavorato alla FAO per 30 anni, si è occupato di riforma agraria, di diritti fondiari delle comunità locali, di diritti delle donne alla terra, di sviluppo territoriale e conflitti legati alla terra. È stato editore della rivista nota appunto riforma gradia della FAO dal 1992 al 2007. Ha anche pubblicato, quindi è anche uno scrittore, ha pubblicato non solo scrittore di materia appunto diciamo scientifica e divulgativa, ma anche ha proprio pubblicato romanzi, vari romanzi su tematiche appunto come il Land Graffing, ricordo Marne Rosse e Limambos. Gli ultimi libri pubblicati, La crisi agraria ed ecogenetica, spiegata ai non specialisti, mentre in 2020 e quando aveva busso alla porta, Donne, terre e diritti, ombre corte del 2023. Una figura interessante che si soffermerà proprio sulle questioni tematiche centrali legate all'evoluzione del rapporto donne-ambiente, ma alla complessità di queste tematiche inserite appunto in un contesto più complessivo. Tutti noi stiamo soffrendo, più o meno documentati come riusciamo ad essere, la pericolosa e complessa fase che abbiamo di fronte. Le guerre e le violenze che si diffondono, i cambiamenti climatici che ci travolgono, ogni volta che piove o c'è vento succedono disastri. Le pandemie e i nuovi virus, ma anche le malattie che non si sanno curare come stanno aumentando, mettono in crisi il nostro sistema sanitario e ci pervade una insicurezza che si confonde anche con una perdita di speranza di umanità e un disagio conseguente. Un disordine mondiale che avanza, guerre scoppiate prima nel cuore dell'Europa in Ucraina, con l'invasione di Putin e ora nel Mediterraneo con la crisi israelo-palestinese che sta producendo tutte le vittime che a Gaza sono civili di fatto o che in Israele sono stati, a cominciare dal re dei ragazzi, uccisi brutalmente e nei kibbutz da militanti di Hamas, ci fanno veramente capire che il mondo occidentale è in crisi e viene colpevolizzato per il suo sviluppo insostenibile e predatorio dal resto del mondo. quello arabo adesso per l'appoggio ad Israele evidente degli Stati Uniti ma anche di fatto dell'Unione Europea e del nostro governo e da tutto quel mondo che a tempo del postcolonialismo abbiamo definito sud del mondo e che adesso da allora si è organizzato nei BRICS che sono appunto un'alternativa, un riferimento internazionale diverso da questo modello di sviluppo e che si sta allargando. Si sta determinando quindi con le guerre in corso una specie di scontro tra l'Occidente e il resto del mondo altri paesi che si preannuncia molto pericoloso e sanguinoso si torna tra l'altro a rivangare in questa occasione soprattutto rispetto al conflitto israelo-palestinese dei massacri terrificanti del Novecento vi ricordate che il Novecento è stato definito un secolo di sangue proprio perché ci sono state due guerre mondiali la liberazione dal nazifascismo ha poi dato vita alla nostra Repubblica e dobbiamo ringraziare le donne che sono state staffette anche partigiane e combattenti in quella liberazione e soprattutto alcune di loro e altre che sono diventate costituenti e le prime parlamentari nella Nuova Repubblica le costituenti però hanno fatto la prima parte della Costituzione quella che non si mette più in discussione perché sono i principi fondamentali tra queste c'era Nilde Jotti che io ho conosciuto che era una delle prime parlamentari e anche Marisa Rodano che tra l'altro ha fatto una bellissima prefazione della mia prima autobiografia politica queste donne sono state eccezionali e noi non possiamo rimettere in discussione le tragedie come i campi di sterminio nazisti e l'olocausto degli ebrei come succede oggi in un modo un po' vergognoso durante questa guerra anche in tutto il mondo perché se non mettiamo in luce quello che queste donne hanno fatto o anche hanno scritto nella nostra Costituzione e non risaliamo ad una serie di avvenimenti veramente molto sanguinosi che si sono stati nel dopoguerra nel nostro paese a cominciare dalla strage di Portella nella Ginestra dove sono stati uccisi a freddo degli contadini che manifestavano per il primo maggio e per l'occupazione delle terre dai latifondisti che non volevano assolutamente che lo spirito della Costituzione anche rispetto a tutto quello che di innovativo portava si affermasse e non risaliamo a tutte le stragi che sono successe da quella di Milano a quella di Bologna a quella sui treni con tutte le complicità più che quelle che sono state i manovrali le complicità politiche e dei servizi segreti deviati ricordo accennando solo la P2 di Gelli la Gladio e così via di cui si è molto parlato mentre questo succedera anche dopo si sperava che fossero finite guerre e regressioni perché pensavamo che il nuovo millennio ci avrebbe portato prosperità e speranza maggiore di giustizia e così via non è purtroppo così e sarebbe interessanti che queste lezioni facessero emergere che cosa è urgente per noi docenti ma soprattutto per chi si seguire le seguirà e di che cosa proprio non ne possiamo più cioè noi dobbiamo non aver paura di dire che ci sono cose che non tolleriamo più ad esempio la guerra le violenze sulle donne e così via l'occupazione dei posti di potere da parte di uomini arroganti e guerra fondai noi siamo donne non violente abbiamo la vita abbiamo necessità di avere la tranquillità per arrivare i nostri figli non possiamo pensare di vedere i bambini massacrati come sta succedendo nella striscia di Gaza o lasciati senza acqua perché è costretti a bere l'acqua del mare a raccoglierla o fatti morire nelle incubatrici perché è nati i ponturi non queste queste violenze gli stupri i femminicidi le guerre devono finire perché se no finisce il mondo cioè se non disertiamo non solo le guerre ma il patriarcato con tutte le violenze che termina non riusciremo a raggiungere quella speranza che per esempio all'inizio di questo secolo un movimento importante che aveva avuto molto credito in tutto il mondo quello dei no global aveva definito la speranza che ci fosse possibile un altro mondo e questo noi continuiamo a volere anche come ecofeministe io ringrazio moltissimo l'ecoistituto che ha permesso di organizzare queste lezioni e vorrei un po' accennare al fatto del perché un corso ecofeminista è importante in questa situazione riprendendo appunto il fatto che le principali catastrofi nucleari chimiche e climatiche di fine novecento dovute a uno sviluppo insostenibile e i tentativi di porvi rimedio che non hanno in effetti migliorato la situazione ci faranno anche capire perché quanti distruzioni e morti produce l'attuale neoliberismo patriarcale paolo groppo ha fatto una ricostruzione storica e anche economico politica e io vorrei ricordare anche il protagonismo come ho già accennato delle partigiane e delle costituenti delle femministe e delle ecologiste come Laura Conti che ho avuto mia collega nella prima legislatura in parlamento una donna delusa dalla sinistra che stanno infatti nella sinistra indipendente e anche non affascinata né dal femminismo né dall'ecologismo perché lei era arrivata prima come il suo bellissimo libro questo pianeta ci ricorda e un'altra donna eccezionale Petra Kelly che insieme ad Alex Hanger sono stati definiti portatori di speranza da Alex stesso e poi da chi gli è succeduto che ci hanno aiutato noi donne ecofeministe verdi e sollecitato a trovare soluzioni come rispondere a questa domanda del che fare se non riflettiamo sulla nostra quotidianità di vita e anche sui testi delle scrittrici che dalla seconda metà del secolo scorso hanno cercato di contrastare la situazione violenta sui corpi delle donne e della natura che in tutto il mondo si è sempre determinata da quando abbiamo memoria e che si tramanda peraltro nei libri di storia che si insegnano nelle scuole dove tutti i protagonisti sono maschi tutti gli avvenimenti sono guerre e conquiste e le donne sono praticamente assenti e dal secolo scorso due donne sono per me molto importanti e vorrei ricordare e consigliarvi i loro libri una è la biologa Rachel Carson che ottene importanti risultati rispetto alle industrie inquinanti denunciando l'uso del distruttivo del VDT che veniva addirittura innaffiato sui campi con disastri incredibili nel suo bel libro Primavera silenziosa che spiega appunto come tutti gli animali ed ecosistemi fossero distrutti da 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 questi veleni e l'altra è François Dobon che una decina di anni dopo perché la Carson scrive questa cosa nel 62 nel 74 profetizza nel suo bel libro Feminismo e morte che è stato solamente tradotto in Italia l'anno scorso il il fatto che se non si ferma il patriarcato e quindi la violenza dell'uomo sulla donna e sulla natura si condanna a morti l'intero pianeta e la specie umana e quindi non possiamo fare a meno insomma di analizzare anche la situazione drammatica di oggi con questo posizionamento ecofeminista che mette in discussione il progetto di dominio sulla natura verso cui si sono orientati politica ed economia ma anche scienza e tecnologia a partire dall'Ottocento molti contributi di questa controcultura sono arrivati anche dal sud del mondo voglio ricordarne sono alcuni in India Vandana Shiva Arunda Tiroi in Africa Vangari Matari che è stata una donna capacissima di creare un grande movimento che ha piantato alberi in tutta la zona desertica dell'Africa ed è poi diventata anche una politica istituzionale importante Vandana Shiva ha invece cominciato con l'appoggio alle donne cipco che hanno abbracciato gli alberi per impedire alle multinazionali di tagliarli e ha creato una banca dei semi per contrastare gli OGM cioè i semi artificiali geneticamente modificati che non potevano più produrre altri semi e che quindi ingrassavano le multinazionali che li producevano e li vendevano in India e facevano morire anche di suicidio spesso perché non sapevano come fare non conoscevano che cosa succedeva chi li seminava ai contadini indiani e così via Arrondati Roy è un'altra indiana da ricordare perché era prima che ha cominciato a mettere in discussione l'uso delle grandi dighe costruite anche con ovviamente i colonialisti che poi con questi cambiamenti climatici dopo che lei denunciava da decenni hanno crollate e hanno inondato e distrutto territori enormi come prima li avevano cacciati i contadini che stavano lì per poter rifare e noi ricordiamo un'altra nostra grande tragedia che è quella del Vajont di questa diga che ha invaso completamente tutto il territorio che su cui era stata costruita producendo un sacco di morti quindi la lotta contro le grandi dighe è stata un'altra delle lotte ecofeministe internazionali di cui ho citato solo due casi ma che effettivamente si sta diffondendo e mette anche in discussione questi modi di intervenire pesantemente modificando il territorio cacciando popolazioni distruggendo l'agricoltura originaria gli attivisti per l'ambiente che sono stati uccisi nell'arco di 11 anni sono 1910 e solamente 177 nello scorso anno lo testimonia la ONG Global Witness lo dico per ricordare due attiviste che vorrei segnalare e che sono state uccise per la loro attività la Daphne Galizia per avere denunciato corruzione del governo a Malta o l'attivista indigena Berta Flores Caceres in Honduras che è stata uccisa nel 2016 poco prima aveva testimoniato nella lotta contro la privatizzazione dei fiumi la difesa delle foreste contro i multinazionali le donne erano in maggioranza ciò provoca minacce alle nostre vite e alla nostra sicurezza fisica emotiva e sessuale minacce contro i nostri figli e la nostra famiglia dicono che siamo prostitute streghe siamo pazze abbiamo lavorato a livello nazionale e internazionale e ottenuto vittorie ad esempio la ratifica da parte dell'Honduras della convenzione 169 sulle popolazioni indigene siamo riusciti a ottenere titoli di proprietà sulle terre della comunità per creare comuni aborigini ricondurre sempre al dopoguerra come si sta facendo adesso in seguito al conflitto europeo-palestinese le guerre e le distruzioni climatiche di oggi senza citare quella che è stata l'esperienza sono state le lotte e gli scritti delle donne in quegli anni del novecento pensate al ruolo delle partigiane appunto e delle nostre costituenti come dicevo non ci lascia speranza se non abbiamo maturato in questo approfondimento ricerca la certezza che la violenza patriarcale deve finire un giornalista maschio finalmente scrive in questi giorni su il fatto quotidiano un bell'articolo dal titolo Amasse bibi due gang di maschi le donne cambierebbero tutto quindi se noi lasciamo fare il destino è una parola che piace al patriarcato che così copre tutte le cose che fa e che distruggono lasciamo il mondo come dice Coria si imbanda di plotoni di uomini e destrati a odio guerra e violenza se la lobby delle armi e quella della droga fanno affari se i bambini nelle zone di guerra crescono sotto il terrore se nel mondo quelli che qui ricò altro giornalista che fu ostaggio in Siria quindi sa cosa significa qual è la condizione degli ostaggi che per esempio sono tenuti da Hamas dopo averli rapiti e portati a Gaza e aver distrutto e incendiato e ucciso nei kibbutz a confine con Gaza il 7 di ottobre come ci ricordiamo quando è cominciata tutta questa violenza nel territorio israelo-tavestinese noi dimentichiamo che non c'è solo Gaza ma ci sono tantissimi popoli nel mondo che Quirico ha definito popoli mendicanti perché non hanno né la possibilità la terra né altre situazioni in cui posseggano mezzi di produzione possano sopravvivere ma sono invece vivono ai margini in territori in ospitali attraversati da violenze e guerre continue e sopravvivono solo grazie agli aiuti delle varie agenzie dell'ONU quando gli arrivano oltre ai palestinesi i somari e altri africani come i sudanesi i sarahawi gli afghani gli haitiani e tanti altri in tutto il mondo vivono in questa situazione e tanti sono anche arabi che ovviamente si sentono in questa fase rappresentati da Hamas e quindi questa è la situazione in cui ci troviamo a vivere se noi ripercorriamo le lotte femministe dai tempi della rivoluzione francese vi voglio ricordare una grande donna che Olympe de Gourge la quale scrisse la dichiarazione delle donne della cittadina per arricchire la dichiarazione di Robespierre in realtà Robespierre che l'aveva usata nel periodo rivoluzionario subì con una specie di onta questo suo arricchimento e la fece ghigliottinare questa è purtroppo la realtà che continua in tantissimi paesi pensate ad esempio la situazione in Iran l'Iran si dice che stia aiutando sia la Russia nell'aggressione in Ucraina sia Hamas nella situazione israelo-palestinese e sapete benissimo che come sono tenute in che condizioni sono tenute le donne in Iran e quante ne sono morta una giovane ultimamente vengono picchiate e ridotte in fin di vita perché non non mettono il velo in modo appropriato secondo gli ayatollah che gestiscono politicamente questa nazione e quindi se queste donne di cui abbiamo parlato fossero state seguite se si fosse lasciato spazio oggi magari da secoli non assisteremo più a queste violenze proviamo a fare insieme questo esercizio di immaginazione se avessimo fatto questo anzi quest'altro rispetto a guerre violenze stupri e così via oppure se ci rimanesse poco tempo da vivere che cos'è che faremmo prioritariamente per i nostri figli i nostri nipoti e quelli che ci sopravviveranno proviamo a affrontare il disordine mondiale le violenze gli stupri come sono successi per esempio a Caivano non è che dobbiamo andare tanto lontano lì siamo in territorio dove governa la camorra dove i ragazzi girano armati alla dipendenza appunto di questi camorristi e lo Stato non esiste e a Parco Verde è successo proprio questa violenza più o meno accettata finché non è emersa perché non era la prima di due cuginette quindicenni più o meno credo e sostanzialmente non c'è ancora nessuna giustizia e sono recentemente in questo territorio dove sono arrivate le forze dell'ordine si dice che lo Stato sta ripulendo eccetera sono ritornati invece gli spacciatori di droga e così via quindi la situazione è veramente ingestibile anche nel nostro paese grazie alla malavita organizzata che fa affari ovunque con chi ha interesse e anche la complicità di molti politici purtroppo o comunque il disinteresse la chiusura nei loro luoghi di potere nelle loro discussioni e la non conoscenza di tutte le violenze e le miserie che ormai ci sono anche di noi da noi il fatto che la sanità non funzioni la scuola non funzioni cioè tutto quello che ci diciamo sempre e noi dobbiamo recuperare una visione collettiva e ci stiamo tentando come ecofeministe io ho rivisto con molto piacere recentemente il video di Jennifer Guerra il tempo della cura che ha documentato lo sciopero del lavoro dalla cura domestica delle donne di un paese che è l'Islanda che è al primo posto nelle classifiche di parità tra uomo e donne in Europa ma che comunque anche recentemente qualche giorno fa ha dovuto ripetere questo sciopero di un giorno perché si stava di nuovo ricostituendo una condizione non accettabile Antonella Picchio una economista grande amica alla fine del novecento nell'incontro di Pechino nel 1995 organizzato dall'ONU con una partecipazione di donne di tutto il mondo aveva riuscì a far approvare la necessità che gli stati corteggiassero il valore del lavoro domestico nel fil ci provavamo anche in Italia con Laura Balbo ministra per i verdi ma nessun bilancio statale può farlo perché il lavoro di cura non pagato ha un alto valore economico in tutto il mondo il patriarcato ha sempre usato il corpo delle donne il loro lavoro gratuito senza cui non potrebbe sopravvivere facciamoci conti donne e uomini insieme e ricordiamo che ci sono tanti rischi ovunque ad esempio quando noi andiamo in Parlamento dopo Chernobyl quella grande tragedia nucleare riuscimmo a far approvare l'uscita dell'Italia dal nucleare con un referendum oggi si vuole riproporre questa fonte e Zaporizia come sapete che è una grande centrale nucleare viene contattualmente minacciata dai bombardamenti anche da Putin e potrebbe questa minaccia nucleare veramente avverarsi sia là ultimamente anche un ministro di Netanyahu ha minacciato l'attomica per distruggere Gaza senza ricordarsi che l'attomica distruggerebbe anche Israele se fosse buttata Gaza grazie Laura allora Luizella darei prima di dare la parola a Paolo Groppo direi di dare la parola a te come concordato sulle tue riflessioni mi sento mi sento di sottolineare in questo momento profondamente il legame tra l'ispirazione etica politica dell'ecofeminismo e la non violenza la pace io proprio parlerei di non violenza proprio nel senso gandiano la non violenza che non è resistenza passiva è la non violenza del forte voi sapete che Gandhi distingue tre tipi di non violenza c'è la non violenza del debole che è la non violenza del vigliacco di chi non non si sente sicuro e quindi rinuncia alla lotta per paura c'è la non violenza appunto del codardo c'è la non violenza del forte ecco la non violenza del forte è la non violenza del guerriero che non ha bisogno di armi perché è talmente forte la sua la corazza che porta e le armi di cui si dota che non c'è assolutamente bisogno dell'impiego di altre armi quindi la non violenza del forte secondo Gandhi è molto legata al tema della cura e quindi in Gandhi c'è anche molto esplicito il riferimento al ruolo delle donne in questo quindi colgo molto volentieri la suggestione di Laura nel dire che questo discorso della cura deve essere ma le femministe lo dicono già da molto tempo deve essere trasferito da quello che è il mondo privato il mondo della casa in cui la cura è nata al mondo pubblico quindi società della cura è il contrario della società del rischio è il contrario della società dell'emergenza la cura è la società che previene la società che non dimentichiamo c'è quella bellissima definizione di Fisher di Tronto che è la cura e l'attività che si prende che custodisce il mondo e che quindi rammenda e quindi fa tutta una serie di opere che sono pazienti perché? Perché ci vuole questa pazienza quindi il tema della non violenza oggi dovrebbe essere nel cuore nostro e nel cuore dell'ecofeminismo perché al centro dell'ecofeminismo è proprio questo rifiuto radicale della violenza che si esercita contro la terra e contro le donne il corpo della terra e il corpo delle donne questa magnifica ripresa dell'idea di terra mater e anche il valore fortemente simbolico di un'immagine materna della terra che evoca come immagini normative quello dell'amore e quello del rispetto quindi direi che nell'ecofeminismo c'è un filone preziosissimo che oggi più che mai dobbiamo essere in grado di recuperare in questo momento così tragico che stiamo attraversando e che mi sembra molto ben esemplato dalle donne di pace e io ne ricordo uno in particolare quella che dice shalom quella che dà la mano a colui che dovrebbe essere il nemico questo gesto ve lo ricordate è stato veramente interpretato come qualche cosa che questa donna fa per compiacere oppure perché obbligata io resisto a questa interpretazione ritengo che ci sia qualcosa di autentico e qualcosa di profondo quel messaggio di pace lei lo lancia a tutte noi e noi lo dobbiamo raccogliere grazie grazie Luisella molto veramente sia l'intervento di Laura che il tuo sono veramente vocativi di prospettive importanti e ora io darei la parola appunto a Paolo Groppo ricordando anche il titolo di questo primo incontro dare un prezzo alla natura a te Paolo grazie Penuccia hanno due queste sessioni dove cercherò un po' di spiegare diciamo come è nato come è cresciuto la questione ambientale vista dagli occhi del mondo dell'economia della finanza e delle grandi corporation in modo diciamo da mettere in chiaro con che tipi di attori e a che gioco stiamo giocando per mostrarvi chiaramente quanto asimmetrica sia questa battaglia per arrivare a quelle che sono le mie conclusioni personali che vanno nella direzione di François Dobon cioè che queste battaglie vanno condotte a partire della lotta contro il patriarcato e secondo me partendo dalla sfera familiare e di questo ne parleremo la settimana prossima Buongiorno a tutte e a tutti cominciamo oggi con la prima sessione del corso Donne e Ambiente il titolo lo sapete è dare un prezzo alla natura primo momento e la questione che si è posta alla fine della seconda guerra mondiale come far crescere nuovamente il tasso di profitto che all'epoca girava attorno al 16% possiamo situare le origini della questione ambientale nel secondo dopoguerra quando il tasso di profitto ha cominciato a scendere obbligando così i detentori di capitale a cercare nuove strade per fare profitti la vera chiave di volta per analizzare e capire quello che sta succedendo nel mondo a sovrastare questa tematica nella percezione generale è comunque la rapida trasformazione del settore agricolo con la progressiva trasformazione di contadini in opera in massa lasciando poche nicchie di contadini che ancora resistono ma non influiscono sulle dinamiche mondiali registriamo la formazione di grandi conglomerati il modello dell'agribusiness americano e successivamente europeo e asiatico che entrano progressivamente in competizione fra loro usando i paesi del sud come pedoni nel nuovo scacchiere internazionale l'industrializzazione dell'agricoltura porta alla privatizzazione del settore inizia a fare affidamento sulla vendita di sementi ed altri prodotti agricoli per ottenere profitti di conseguenza l'importanza crescente dei diritti di proprietà intellettuale nel settore agricolo giusto per dare un'idea alcuni anni fa il mercato mondiale dei semi il 74% apparteneva a 10 grandi multinazionali negli ultimi anni la cosa è anche peggiorata dato che alcuni di questi gruppi si sono riuniti considerate che tre anni fa Singenta che è cinese ormai controllava circa un quarto del mercato globale dei prodotti chimici per l'agricoltura per avere un'idea della dimensione degli attori di questo gioco si va completando dal dopoguerra in poi il mercato unico globale con differenziali di produttività enormi che impediscono qualsiasi forma di sviluppo endogeno nelle agricolture dei vari sud partiamo da un differenziale di produttività agricola fra l'agricoltura moderna americana e quella dei nostri paesi mediterranei che era di 30 a 1 per arrivare negli anni 90 con un gap che è salito a 500 a 1 il mercato globale ormai è fatto quindi c'è una libera e diseguale competizione tra sistemi agricoli differenti le basi della crisi attuale possiamo situarle a partire del 1971 con la fine del gold standard del sistema aureo parità fissa tra dollaro e oro convertibilità delle monete in dollari da quel momento ogni valuta dovrà navigare in mare aperto senza difese che non siano quelle della forza del paese rappresentato si aprì un periodo di instabilità che portò alla svalutazione della moneta americana che favorì i conseguenti shock petroliferi del 74 e del 79 e che fu uno shock economico globale senza precedenti Nixon e la sua amministrazione volevano indurre i paesi industrializzati a rivalutare le loro monete rispetto al dollaro per ridurre il crescente deficit della bilancia dei pagamenti americano gli effetti però furono fuori controllo e incalcolabili le cose andarono diversamente le nuove regole del gioco spianarono la porta alla globalizzazione della finanza con l'abbandono della parità aurea si crea di fatto l'industria del credito con rischi per chi vende in una valuta e ha costi in un'altra nostri esportatori che vendevano in lire che avevano costi magari in franchi o in marchi tedeschi e si crea nel 72 a Chicago il mercato dei futures che sono i primi strumenti derivati comprare nel futuro una certa quantità di prodotto a un prezzo concordato adesso ricordiamo che nel 72 il club di Roma pubblica i limiti dello sviluppo interessante ricordare al di là del ruolo molto importante giocato da Aurelio Picei il ruolo chiave di Donella Meadows che nel 72 insieme ad altri due scienziati prima elaborò il modello diciamo di simulazione e dopodiché scrissero e pubblicarono l'edizione di questo documento tre punti importanti da ricordare se la crescita delle grandezze principali che caratterizzano il mondo come la popolazione oppure la disponibilità di alimenti continua al presente livello si arriverà a dei limiti che se oltrepassati porteranno a un collasso della popolazione e della capacità industriale del mondo la crescita di questi parametri può però essere modificata se l'umanità decide di percorrere questa seconda strada più presto si fa questo cambio di rotta migliori saranno le probabilità di successo un allarme che non è stato da allora praticamente mai ascoltato l'anno seguente nell'autunno del 73 scoppia la guerra del Yom Kippur che rivelò i limiti della crescita economica occidentale basata sull'abbondanza e i bassi prezzi del petrolio quasi la metà dell'energia primaria era utilizzata a livello mondiale potete vedere sul grafico di destra come dalla fine della prima guerra mondiale i prezzi del petrolio pagati ai produttori da parte delle sette sorelle fossero non solo bassi ma anche costantemente in calo i principali paesi arabi produttori di petrolio decisero l'embarco della vendita del greggio agli stati che avevano sostenuto Israele si rompeva in questo modo il legame di sottomissione che legava i paesi produttori alle sette sorelle americane nel settore petrolifero costringendoli ad accettare prezzi molto bassi per l'oro nero quello che fu definito come il primo shock petrolifero in realtà fu un giusto riallineamento dei prezzi che ovviamente il mondo occidentale presentò come un segnale di avidità degli arabi un massiccio trasferimento di capitali si realizzò quindi a favore di questi ultimi senza però che avessero delle strategie chiare su cosa fare di questa montagna di soldi e da lì si aprì un altro filone legato alla questione dei debiti del terzo mondo e ai programmi di aggiustamento strutturale che non vedremo oggi nel 74 nasce fra virgolette l'ecofeminismo lo dobbiamo a François Dobon che ha pubblicato questo libro che è stato tradotto in italiano molti anni dopo col titolo Il femminismo e la morte scritto nel 74 questo testo può essere considerato il primo manifesto dell'ecofeminismo è un termine che fu coniato dalla stessa François Dobon facendo della struttura patriarcale il denominatore comune dell'oppressione delle donne e dello sfruttamento del pianeta l'autrice offre nuove prospettive al momento femminista e alla lotta ecologista dopo di me Laura Cima continuerà questa presentazione a partire da questi temi presentando anche la sua esperienza politica personale questo nuovo mondo in preparazione dalla rottura del gold standard basato sul libero mercato delle speculazioni necessitava però di forte coperture politiche e queste arrivarono nel 79 80 l'incidente di Three Mile Island nel 79 con parziale fusione del nocciolo della centrale nucleare non fu sufficiente per portare un'attenzione strutturale al tema ambientale quello stesso anno nel 79 importante ricordare la convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne l'assemblea generale approvò la seda un documento molto importante soprattutto perché era un documento di natura vincolante che affrontava in modo comprensivo e coerente il tema della discriminazione contro le donne in tutti gli aspetti della società conferendo particolare importanza non solo all'uguaglianza di fatto ma anche ad una piena ed equa partecipazione delle donne allo sviluppo economico sociale della società eliminando gli ostacoli quali povertà guerra stereotipi di genere che solitamente si apprappongono al raggiungimento di tale obiettivo però il 79 e l'80 sono gli anni quando viene dichiarata la guerra al patto sociale ed eccoli qua i due responsabili l'America democratica di Carter venne spazzata via dal populismo reganiano mentre Margaret Thatcher prendeva il posto dei laboristi alla guida dell'Inghilterra iniziava così il dominio neoliberale la cui preparazione era iniziata già anni prima in particolare va ricordata la politica imposta dai Chicago Boys di Milton Friedman nel Cile di Pinochet si trattava di un mix di individualismo e di assenza di regole dove il governo e politiche pubbliche venivano viste come parte dei problemi e mai delle soluzioni l'epitafio di quegli anni non esiste una cosa come la società ci sono individui maschi e femmine e ci sono famiglie frase che viene attribuita a Margaret Thatcher lì in poi in modo pervasivo ed occupando tutti i settori della vita quotidiana dall'economia alla cultura educazione e salute il nuovo credo avrebbe iniziato sul lungo cammino che ancora non è terminato e fu così che nemmeno la catastrofe di Bhopal nell'84 la più grave che continua a fare vittime fino ai giorni nostri seguita da Chernobyl nell'86 il più grave incidente della storia dell'energia nucleare che sarà uguagliato solo da Fukushima nel 2011 malgrado l'attenzione mondiale che ne seguì non modificarono la strada intrapresa del mondo neoliberale guidato da Stati Uniti Gran Bretagna il nocciolo della questione era togliere lacci e lacciuoli ambientali ed a questo si è dedicata l'amministrazione Reagan eliminare le leggi per la protezione dell'ambiente togliere potere l'agenzia di protezione dell'ambiente e ordinare licenziamenti massicci dei funzionari di questa agenzia seguito da Bush Senior il quale nell'89 fa provare la politica di non perdita netta delle zone umide e si apre tutto il capito dei meccanismi di compensazione attraverso la Wetland Mitigation Banking che è una banca di abitati di zone umide dove si comprano azioni che imprenditori interessati a sviluppare abitati di zone umide per usi abitazionali industriali ricreativi devono comprare come condizione per l'approvazione del loro piano di sviluppo questo meccanismo ha fornito un modello per la protezione delle specie minacciate la CBD e il protocollo di Kyoto con Clinton viene mantenuto l'insieme di questo approccio con Bush Junior vengono espanse le politiche svuotando le leggi sull'aria e sull'acqua la Clean Air Act e la Clean Water Act e vengono tolti altri funzionari all'EPA e vengono dati inoltre permessi per corare in Alaska con Obama non cambia niente perché mantiene queste politiche giusto per capire che cambiando da repubblicani e democratici di fatto non è successo nulla di nuovo l'obiettivo era forzare le risorse naturali verso il mercato il background culturale era già stato preparato da parecchi anni prima il concetto base l'aveva pubblicato Gary Harding con la tragedia dei Commons nel 68 dopodiché le università occidentali hanno fatto la gara per elaborare e avanzare sulla teoria dei diritti di proprietà individuali Banca Mondiale d'accanto suo ha fatto una promozione dei mercati della terra forzando cambiamenti politici e legislativi in molti paesi del sud a livello delle Nazioni Unite molto importante ricordare che il fenomeno principale è l'inizio della finanziarizzazione dello sviluppo con il passaggio di una parte importante delle attività legate allo sviluppo dall'istituzione del sistema ONU alle istituzioni di Bretton Woods Banca Mondiale Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale il contesto internazionale per i più giovani è un'accelerata competizione est-ovest con Gorbachev dall'85 assistiamo prima alla glasnost trasparenza e poi la perestroica che è un tentativo di ristrutturazione del sistema che non va da nessuna parte e quindi nell'89 con la caduta del muro di Berlino comincia a crollare tutto il mondo ex-sovietico e cosa diventa evidente due anni dopo quando viene dissolta l'inone sovietica che viene sostituita ad una Russia debole e sottomessa alle scorrerie di banniti finanziari di tutti i tipi che vediamo ancora oggi lasciando così campo aperto alla sola potenza rimasta quella americana e quello che Bush Senior voleva un nuovo ordine mondiale è in questa atmosfera politica che nasce il rapporto Brontland dell'87 che inventa il concetto di sviluppo sostenibile produrre di più con meno risorse l'enfasi frutto della visione che comincia a dominare il mondo è sulla parola sviluppo cioè crescere quindi produrre e consumare per avere sempre di più quindi più mercato per le risorse naturali e più management gestione nel senso delle accademie del nord portando questi principi in tutto il mondo nelle riserve ecologiche e nei beni comuni il risultato l'ecologia si riduce a una forma superiore di efficienza economica l'influenza del nuovo credo neoliberale trova il suo sbocco nel summit della terra a Rio nel 92 ricordiamo solo il commento sintetico fatto dalla Caritas la dichiarazione è forte sul contributo positivo che il settore privato può dare allo sviluppo sostenibile attraverso soluzioni basate sul mercato e nuove tecnologie i suoi promotori saranno ansiosi di capitalizzare sulle nuove opportunità commerciali che queste misure di economia fra virgolette verde offriranno ma il testo è piuttosto silenzioso sugli impatti negativi sociali ambientali e sui diritti umani delle imprese principalmente multinazionali che devono essere affrontati per rendere lo sviluppo più sostenibile e giusto nel 95 duco può ricordare la quarta conferenza mondiale delle donne che approvò una piattaforma d'azione un testo politico più rilevante e tuttora più consultato dalle donne di tutto il mondo è a Pechino che i movimenti di tutto il mondo hanno affermato la propria pretesa di guardare il mondo con occhi di donna e hanno proclamato che i diritti delle donne sono diritti umani le parole chiave della conferenza punto di vista di genere empowerment mainstreaming sono entrate nel dibattito femminista e anche con risultati alterni in quello dei governi ma resta comunque una forza ancora diciamo in crescita ma che rispetto a quegli grandi attori che stiamo vedendo ancora non ha una forza sufficiente per battersi due anni dopo arriva il protocollo di Kyoto è il primo accordo internazionale che contiene gli impegni dei paesi industrializzati a ridurre le emissioni di alcuni gas ad effetto serra entrato in vigore nel 2005 il protocollo consente di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra attraverso meccanismi basati sul mercato i cosiddetti meccanismi flessibili che sono i tre che sono indicati lì sotto fondamentalmente basato sul sistema delle compensazioni i paesi industrializzati o economie in transizione possono realizzare progetti nei paesi del sud che producano benefici ambientali quindi guadagnano punti oppure consente ai paesi industrializzati di realizzare progetti per la riduzione delle emissioni di gas era in un altro paese dello stesso gruppo e di utilizzare i crediti derivanti di fatto il protocollo di chioto porta la logica delle compensazioni ambientali all'intero mondo cioè i diritti di continuare a inquinare in cambio di presunte compensazioni nascono così delle nuove specie di banche le species bank per facilitare gli investimenti speculativi tipo i Debt for Nature Swords verdi su singoli componenti degli ecosistemi da usare nel mercato delle compensazioni e queste banche naturalmente nascono nei paesi del nord anglosassone Stati Uniti Australia Canada con altri paesi interessati Francia Inghilterra Sud Africa Nuova Zelanda eccetera Da ricordare che il secolo che si stava chiudendo registrava una perdita del 75% della biodiversità vegetale Vedete la piramide sotto dalle oltre 7000 piante vivibili solo 12 sono diventati importanti alimenti di base e di questi 4 mais riso patata grano coprono il 60% di tutte le calorie consumate Il nuovo millennio quando inizia? L'11 settembre oppure con l'uragano Katrina nel 2005 Il costo materiale dell'uragano Katrina per i beni assicurati fu dei 75 miliardi di dollari Il costo totale includendo i beni non assicurati fu il doppio 150 miliardi Il mondo delle assicurazioni e della finanza intuì che era quella l'apertura per nuove e fruttuose speculazioni Cominciarono ad apparire nuovi strumenti finanziari sempre più complessi option swap CDS e i famosi cut bond tanto per citarne alcune categorie diventarono moneta corrente La raccolta fondi aumentò esponenzialmente grazie a promesse di tassi di interesse molto vantaggiosi Il problema comune con tutti questi strumenti ed è un problema crescente con una somma modesta si si espone a un grande rischio che è difficile da valutare per quanto la banca sia esposta con esso Questo l'avremo visto come ben ricordate pochi anni dopo Come possiamo vedere dalla figura qui sotto l'economia mondiale accelerò il suo spostamento verso il mondo finanziario La linea verde in basso vi ricorda il peso dell'economia reale e la linea in blu lo sviluppo incredibile preso dall'economia finanziaria sempre più risorse venivano distolte dall'economia reale per entrare nel mondo delle speculazioni finanziarie altamente voratili e precarie capitale alla ricerca di un profitto immediato a scapito di qualsiasi remore morale etica ambientale o altro La stima a occhio è che grosso modo il 98% dell'economia mondiale oggi sia in mano al mondo finanziario solo il 2% sia economia reale Bisognava anche trasformare la governance globale quindi dallo Stato Nazione si inizia a passare alle corporation multinazionali per far sì che questo nuovo ordine mondiale funzionasse al meglio erano necessarie nuove regole di gestione manageriale nonché un nuovo modello di governance partiamo con questa che è il primo cambiamento di cui pochissimo si è parlato ma che è centrale in gran parte dei problemi che vengono affrontati da molti anche dei governi del nord al giorno d'oggi riguarda i cosiddetti i codici della commissione Cadbury del 92 ripresi dall'Oxie nel 99 da quel momento in poi dai governi occidentali da qualsiasi società che volesse essere quotata la city di Londra l'obiettivo era disciplinare il ruolo dei manager industriali che non sono più responsabili dei prodotti e del lavoro da loro gestito ma come agenti rispondenti solo alle esigenze degli azionisti viene allora messo rapidamente in piedi il sistema che è sotto i nostri occhi secondo il quale gli azionisti principali fondi di pensione hedge funds fondi speculativi come nel fondo BlackRock banche acquisiscono imprese e società al solo scopo di farne dei profitti disinteressandosi completamente della storia industriale del soggetto acquisito e ancora meno dei lavoratori impiegati il quadro generale viene fornito dal cosiddetto consenso di Washington espressione coniata nell'89 per descrivere un insieme di dieci direttive di politica considerata come il pacchetto standard da destinare ai paesi in via di sviluppo e di fatto anche a quelli del nord che si fossero trovati in crisi economiche erano promosse da organizzazioni internazionali con sedia a Washington fondo monetario banca mondiale e dipartimento del tesoro dell'amministrazione americana e come potete leggere chiaramente l'imprinting legata al mercato e alla riduzione del ruolo dello Stato è chiarissimo dalla biodiversità si comincia ad andare verso qualcosa di nuovo quindi assistiamo dalle corporation alla finanza creativa lo spostamento dal valore al prezzo è questo mix di orientamento liberale con giocatori dal potere immenso senza controlli con l'unico obiettivo di far soldi e subito che porta alla crisi del 2007 e 2008 dietro lo sappiamo ci sono sempre le stesse banche e fondi speculativi la Citi JP Morgan le Deutsche Bank la Societe Generale ma anche fondi come BlackRock che stanno già preparando i derivati per speculare sulle terre e sulla natura nonché sulle specie in via d'estinzione e da lì emergono i servizi ecosistemici la data è il 2005 quando viene lanciata la nuova religione attraverso il rapporto scritto da un gruppo di esperti con il cosiddetto Millennium Ecosystem Assessment come potete vedere in alto a sinistra il numero di articoli nel web a partire dalla pubblicazione di quel testo è aumentato in maniera esponenziale per piazzare la nuova terminologia il nuovo concetto che è essenzialmente la natura deve essere gestita attraverso i servizi ecosistemici cioè la miglior maniera per difendere i beni comuni è attraverso i loro servizi ecosistemici e per questo dobbiamo dare loro un prezzo quindi ripeto la natura deve essere gestita attraverso i servizi ecosistemici allora prima si crea il problema e cioè si specula e si distruggono le risorse naturali terre acque foreste poi si inventa la medicina a questo mare le risorse naturali non sono difese perché la gente non ha idea del loro valore cioè del loro prezzo questa sarà la linea seguita da allora fino ad oggi da parte di neoliberali convinti e dagli esperti ingenui che mettono la loro firma su politiche il cui risultato era evidente fin dall'inizio questo succede perché come l'abbiamo visto dalla prima slide il capitale privato aveva bisogno di nuove aree dove investire per fare soldi nel breve termine credere che la protezione ambientale fosse una preoccupazione seria vuol dire credere alle favore oppure come spesso succede essere conniventi parallelamente allo sviluppo di questa nuova religione che troverà sussidi per tutti quei centri universitari politici e culturali che la sostengono e che gode ancora dell'appoggio di moltissimi governi e agenzie delle Nazioni Unite assistiamo a una deriva verso nuovi livelli di corruzione a livello delle istituzioni governative dei paesi interessati i tagli all'educazione imposti dai programmi di aggiustamento strutturale negli anni 80 danno gli effetti desiderati una nuova classe di funzionari impreparati semi-analfabeti prendono le redini delle amministrazioni locali mentre al centro pochi specialisti formati nelle università del credo neoliberale del nord assicurino che si portano avanti le ricette volute la battaglia intellettuale che si gioca nelle università e nelle agenzie e nelle Nazioni Unite e che la gente normale non ha capito riguarda il cambio semantico dal concetto di biodiversità a quello di servizio ecosistemico in breve vi mostriamo un po' un riassunto di cosa c'è dietro ognuno dei due concetti per la biodiversità si basa sul rispetto della vita in tutta la sua diversità i servizi ecosistemici propongono un rispetto della vita in funzione della sua utilità per gli esseri umani la biodiversità richiede la gestione in termini di beni comuni servizi ecosistemici richiede la monetarizzazione cioè la mercificazione della natura quindi cosa vogliono i servizi ecosistemici separare un intero ecosistema in parti che si suppone siano gestibili attraverso le forze di mercato e quindi venderle e mettere sul mercato i servizi ecosistemici che ci interessano sono quelli che servono a noi umani e a questi bisogna dare un prezzo la nuova pubblicistica inizierà ad invadersi con questa nuova terminologia payment for ecosystem services ricordando che il prezzo è un rapporto di scambio tra due beni introduciamo il mercato come premessa per salvare la natura quello stesso mercato asimmetrico dove i potenti comandano e i deboli obbediscono la natura non avendo diritti e nessun rappresentante legale a difenderla diventa quindi la più debole fra i deboli ecco allora aprirci un mondo alla speculazione più sfrenata esempio il programma UNRED le Nazioni Unite scrivono a proposito dei crediti carbonio la determinazione del prezzo del carbonio forestale e la creazione di mezzi e canali di pagamento sono condizioni necessarie per raggiungere gli obiettivi di mitigazione del 2030 la nuova parola alla moda come direbbe arbore compensate gente compensate vendo aria fresca chi vuole comprarla? questo è il mercato dei crediti carbonio vendo i servizi ecosistemici di madre terra chi è disposto a pagare? questi sono i PES tutti figli del protocollo di Kyoto l'evoluzione futura potrebbe essere l'emissione di Indio Bond il nome della protezione delle foreste e della loro funzione di assorbitrice di CO2 le popolazioni indigene locali vengono allontanate per evitare che creino delle esternalità negative lasciando così la superficie forestare i cui diritti CO2 sono già stati venduti al mercato sotto la protezione dei guardie armate che impediscano l'entrata di chi ci viveva da sempre a questo punto la popolazione indigina si trova in pericolo costretta come in zone più piccole e senza la biodiversità a cui erano abituate la soluzione diventa quella di preparare un prodotto finanziario un derivato o altro per salvare fra virgolette questi indios ecco allora che l'investitore può comprare azioni sul mercato della CO2 per salvare il mondo anche se sta distruggendo l'abita delle popolazioni locali e può comprare anche indio bond per salvare quelle stesse popolazioni che anche lui ha contribuito a mettere in pericolo con tutte queste azioni positive potrà compensare qualsiasi altra distruzione vorrà fare nel sud o nel nord del mondo è uno scenario possibile speculare sugli esseri umani li prendiamo le loro foreste li costringiamo ad andarsene perché è la logica del mercato del carbonio schiacciamo il loro abita naturale li rendiamo una specie in pericolo in via di estinzione e quindi creiamo il nuovo derivato finanziario che ho chiamato l'indio bond voi pensate che queste siano così speculazioni personali ma gran parte di questo per la parte di prenderle le foreste cacciarli via in nome del mercato del carbonio sta succedendo in paesi come l'Uganda grazie anche io direi di dare la parola eventualmente a eventuali appunto domande riflessioni poi se fosse arrivata ma non mi sembra sia arrivata Laura Marchetti aspettavamo anche il suo contributo le riflessioni sono tante complesse io potrei diciamo anticipare con due domande la prima è io ho partecipato alla conferenza dell'ambiente diciamo sia di Rio che di Johannesburg e poi anche a Parigi a Glasgow a me quello che colpisce sempre al di là che condivido l'analisi di Paolo Groppo che è veramente un'analisi corretta però ecco quello che vorrei dire è che quello che mi ha sempre colpito in questi eventi in cui ho partecipato all'interno della società civile è una domanda che poi rivolgo anche a Laura Cima ed è il ruolo della società civile cioè io penso che la società civile da un lato e quindi tutto quello che ho visto anche in termini anche di critiche durante queste conferenze mondiali perché io partecipavo sempre dal punto di vista della società civile anche nell'ultima di Glasgow secondo me può essere determinante non solo per riprendere quei famosi punti del club di Roma che tra l'altro ha ripubblicato appunto il testo e ha diciamo messo in evidenza alcuni aspetti che secondo me sono comunque interessanti e l'altro ruolo fondamentale è quello delle città le città potrebbero in un qualche modo reagire di fronte a questa che è comunque una visione globale insomma generale cambiando un po' appunto come diceva Laura prima il paradigma insomma e la domanda quindi che faccio anche a Laura è quindi questa un po' per Paolo e poi a Laura è il tuo testo appunto sull'ecofeminismo in Italia quando parli appunto di una rivoluzione necessaria ecco a che cosa ti riferisci e magari ci racconti anche un po' che cosa contiene questo testo anche perché questo corso è proprio rivolto a chi vuole anche approfondire quindi penso che ci siano oggi tante possibilità di approfondimento per capire meglio anche tutti i concetti che ci sono stati trasmessi vedo che Luisella Battaglia ha alzato io raccoglierei un po' di domande in modo che così lascio subito la parola a Luisella perfetto no mi volevo molto congratulare con entrambi gli interventi e devo dire vorrei aggiungere alcune cose come testo di riferimento dell'ecofeminismo io sono molto legata a Caroline Merchant donne ecologia e rivoluzione scientifica perché credo che in qualche modo forse adesso non vorrei esagerare ma la bibbia dell'ecofeminismo potrebbe essere considerata quella proprio nel senso che stabilisce un legame molto forte e profondo tra quello che è il dispotismo maschile sulla natura sul corpo della natura sul corpo della donna e soprattutto evidenza cosa che mi pare estremamente importante per noi oggi come questa visione premoderna del mondo questa natura materna sia un'intuizione straordinariamente fertile straordinariamente feconda che poi viene per così dire inverata scientificamente perché l'ecologia è proprio questo che ci dice cioè che noi siamo parte di una grande comunità di vita e che il rapporto con la natura è un rapporto profondo è un rapporto anche di amore quindi è come se l'ecologia oggi questa scienza avesse ritrovato grazie anche a questo pensiero premoderno e quindi saltando questa modernità in cui c'è stato Baccone in cui ci sono stati i grandi teorici del dominio dell'uomo sulla natura ecco avesse ritrovato fosse ritornata alle origini a quella sapienza delle origini e quindi questo legame profondo io trovo che in quel testo sia molto ben espresso quindi io ne raccomanderei sempre il riferimento alla lettura Caroline Merchant Donna Ecologia e Rivoluzione Scientifica e io ho trovato poi di grandissimo interesse questo diciamo questi due paradigmi della biodiversità e dei servizi ecosistemici che sono veri e propri paradigmi anche etici e di modi dell'abitare la terra e credo che sia proprio il nostro compito quello di affrontare questa grande transizione sono d'accordo con Pinuccia che il Club di Roma abbia rappresentato una tappa importante pur nei suoi limiti perché indubbiamente il Club di Roma aveva fatto un passo avanti fondamentale cioè per la prima volta si parla di limiti allo sviluppo e diciamo che in un'epoca in cui lo sviluppo veniva considerato automaticamente progresso confondendo grossolanamente una nozione quantitativa sviluppo con una nozione qualitativa come progresso beh aveva dato comunque un contributo importante parlare di limiti tant'è vero che io mi sentirei di dire che l'idea di etica dei limiti che tanta parte poi avrà nel movimento ambientalista nasce lì e purtroppo Peccei il Cabio Roma non viene ascoltato è certamente una tappa da superare però una tappa importante qual è la transizione a cui noi dovremmo prepararci? Beh io la chiamerei proprio il grande passaggio da questa idea dei limiti dello sviluppo che ancora peraltro non è entrata però direi nella nostra quotidianità all'idea della preservazione cioè il grande salto è proprio quello l'etica della preservazione che è quello del valore della natura la natura non ha un prezzo ma ha un valore e quindi come tutto ciò che ha valore non ha prezzo perché è qualche cosa di assolutamente incommensurabile quindi io devo dire molto interessante questa tra la rassegna tra l'altro molto molto precisa e molto completa e quindi vi ringrazio molto per tutto quello che io ho appreso Ci sono altre domande? Direi se volete comincio a dire due cose proprio due che mi ha tirato a dire Pinuccia sono il fatto che il ruolo della società civile ovvio è determinante e tra l'altro noi non abbiamo fatto cenno ma tutti questi vertici o molti di questi vertici hanno anche avuto i controvertici io sono stata a Johannesburg e c'era controvertice nelle nelle slam nelle situazioni ho dovuto andare con siccome ero deputata avevo una guardia del corpo che mi accompagnava e in queste zone terrificanti dove la gente vive proprio come diceva il giornalista che ho citato in non luoghi talmente disastrosi e talmente senza possibilità di avere sviluppo per cui la società civile ma anche l'associazionismo ma anche quello che può essere il terzo settore non lo so una volta c'erano tutti questi punti di riferimento e soprattutto c'erano dei luoghi dove ci si poteva incontrare ecco quello che manca oggi è secondo me Pinuccia e qui dovremmo un po' aiutarci vicendevolmente questo è uno dei momenti che può in qualche modo supplire la mancanza di luoghi in cui incontrarci è il fatto che un po' con la storia del lockdown prima e poi con lo scollamento totale secondo me non so cosa ne pensate voi ma comunque della politica ufficiale quella che sta nei luoghi di potere quella che sta nei luoghi decisionali da invece la società civile in tutte le sue forme ma anche che ne so nella forma del condominio voglio dire ci sono dei progetti di co-housing ne volevo anche parlare poi mi è saltato il tempo in molto interessanti che riescono a superare l'isolamento l'economia circolare che permette anche di aggregare i piccoli contadini e la piccola produzione e salvarsi un po' da queste multinazionali inquinatrici e rapinatrici questi luoghi che sono tanti dove c'è un sacco di persone che se sono lasciate a sé perché non hanno più modo di mettersi insieme con le loro diverse esperienze noi dovremmo aiutarli a venire fuori come quando appunto si facevano questi grandi incontri molti da questi luoghi partivano e andavano andavano anche a Pechino c'era nel 95 il incontro Pechino cioè dappertutto nei vari luoghi di incontri internazionali c'era sempre un momento in cui chi non era nei governi nelle delegazioni ufficiali si trovava la stessa cosa dovrebbe essere fatta anche sui nostri territori Paolo direi grazie Cristo sulla questione della società civile io parlo ovviamente dall'angolo della mia esperienza professionale che è stata essenzialmente nel mondo agrario posso dire di averne conosciuti da vicino e da molto tempo alcuni di questi grandi attori parlo in particolare di quella che è considerata la più grande organizzazione il più grande movimento contadino mondiale che è la via campesina fin da quando si sono creati nel 93 abbiamo fatto anche delle cose con loro come una conferenza sulla riforma agraria che per la prima volta siamo riusciti a fare in un modo diverso molto più inclusivo e che ovviamente non è piaciuta al mondo del nord banca mondiale e un'unione europea in testa ma devo dire che sono passato ad una fase iniziale di entusiasmo di voglia di fare tante cose con loro ho ancora qui a casa anche una foto mia ad una manifestazione fatta insieme con il movimento dei senza terra brasiliani sono passato da questa fase di entusiasmo di voglia di fare cose con loro a una fase molto più dubbiosa mano a mano che passavano gli anni e che conoscevo dal di dentro le logiche di potere e di fatto adesso posso metterci anche diciamo il sostantivo le logiche patriarcali che dominavano e continuano a dominare questi movimenti diciamo il mio distacco da loro si è accelerato pochi anni fa quando io ho cominciato ad approfondire le questioni di genere prima all'interno del mondo agrario e poi all'interno della sfera pubblica e privata in particolare e lì me ne sono reso conto che funzionano con le stesse logiche di quelli che sono i nostri avversari per non dire nemici cioè logiche patriarcali dominano i maschi non c'è spazio per le minoranze di poter realmente avere una possibilità di dire l'errore oltre a questo come dirò più che altro nella seconda lezione dobbiamo renderci conto che abbiamo a che fare con attori che sono uno due o più passi avanti rispetto alle nostre capacità di stargli dietro quindi la questione della società civile questi l'hanno affrontata ben prima che noi scoprissimo cosa fosse la società civile per cui tutta la retorica che è stata montata diciamo dagli anni settanta in poi sulla partecipazione gli approcci partecipativi in compagnia io l'ho vissuta dentro un'organizzazione che è la FAO che aveva uno dei programmi FARO che era proprio il People's Participation Program per mostrare finanziato dagli americani per mostrare quanto si era partecipativi nei progetti di sviluppo agricolo a un certo punto un amico mio del Costa Rica un professore universitario consulente in vari dei miei lavori ha coniato questa nuova parola che era participulazione che di fatto partiva dalla partecipazione che pian piano diventava manipolata per cui quello che noi osservavamo sempre di più era una participulazione della società civile siamo ormai da parecchi anni in un mondo dove i grossi attori Banca Mondiale e tutto il mondo della finanza si organizzano la loro società civile che invitano sia nel mondo agrario abbiamo una qui a Roma che si chiama la Land Coalition nel mondo nel dibattito ambientale ce ne sono alcune come la Nature Conservancy che sono gestite da ex direttori della Banca Mondiale con finanziamenti del sistema finanziario che da quella patina di società civile che critica ma così molto così suavemente le posizioni degli attori forti ma per mostrare appunto che c'è un dibattito che quindi tutto è fra virgolette inclusivo detto questo dal lato negativo nella mia esperienza professionale siamo riusciti a fare delle cose a cambiare politiche a far introdurre programmi diversi due che sono diciamo esempi concreti sono state la legge sulla terra in Mozambico che è arrivata dopo che siamo riusciti a far cambiare la politica da parte del governo grazie a una coalizione di forze con università locali e piccole ONG sia di donne che di contadini non legate a nessuna rete internazionale ma alla fine c'è stato un momento storico quando si è aperta una finestra di opportunità e una nuova legge sulla terra inclusiva che riconosceva e riconosce i diritti delle comunità locali e delle donne è stata approvata in Brasile siamo riusciti noi a introdurre una cosa che sembra banalissima al giorno ad oggi ma che non lo era fatto 30 anni fa il tema dell'agricoltura familiare sul familiare ci sarebbe molto da dire ma insomma all'epoca non esisteva assolutamente nessun programma in nessun paese dell'America Latina in favore di questo tipo di agricoltura cosa che da noi l'aveva capito benissimo la DC fin dalla seconda guerra e difatti la Coldiretti era diventata veramente un collettore di 5 milioni di voti all'epoca di Bonomi nel mondo agrario nessun movimento partito di sinistra aveva mai capito che era importante fare qualcosa per questi piccoli contadini ci siamo riusciti e anche lì con coalizioni lì sì con l'appoggio anche del movimento di senza terra di università eccetera per cui non faccio di ogni erba un fascio però non credo a occhi bendati che la società civile abbia la forza sufficiente soprattutto perché scontri gli stessi problemi che abbiamo noi tutti nel mondo dei progressisti non siamo capaci di allearci andiamo sempre gira e rigira come si dice da 30 anni a questa parte metti insieme due persone di sinistra in Italia e hai tre partiti ecco più o meno con la società civile funziona così ce ne sono di importanti ma non si è mai riusciti a fare forza sufficiente mentre dal lato opposto come vedrete anche nella seconda sessione diciamo l'attacco al cuore della natura è arrivato a livelli così forti che necessita non solo un'alleanza orizzontale ma anche una capacità di specializzazione su certe tematiche che onestamente oggi mi sembra in Italia non abbiamo assolutamente vorrei rispondere ad un'altra domanda che non sono riuscita a affrontare che mi ha fatto pinuccia perché mi sembra importante quella relativa al nostro libro collettivo perché questo è l'ecofeminismo in Italia le radici della rivoluzione necessaria è un libro che nasce dall'esperienza che ho appena accennato di essere dopo Chernobyl andati in Parlamento ecologisti e femministe tra l'altro in modo paritario perché proprio c'è stata una battaglia a riguardo vediamo se ci sono altre domande devo dire che è stata anche molto suggestiva adesso molto interessante la risposta di Paolo Groppo che ci interroga profondamente è anche molto suggestiva l'osservazione del passaggio dai limiti dello sviluppo all'idea della preservazione la natura non ha prezzo è un valore che richiama poi anche quella visione appunto tra biodiversità e servizi ecosistemici che a mio avviso è molto interessante trovo veramente suggestivo anche quello che ha detto appunto Luisella Battaglia come chiave di lettura complessiva sì certo quello che ha detto Luisella è assolutamente importante anche riprendere la terrore immersion come testo fondamentale comunque quello che volevo dire è che mi ricordo era anche amica di pallante che abbiamo anche cominciato un discorso sulla decrescita ricordate il momento della decrescita che era iniziato e stavamo appunto tentando di portarlo avanti però è durato poco in realtà cioè non è riuscito a coinvolgere quello che credo che è stata un'esperienza veramente molto importante che abbiamo scritto in questo libro collettivo dove ci sono testimonianze di tanti comunque ci sei anche tu nel libro ci sono tante altre donne importanti la grazia Francescato tante di quelle che sono con noi state parte di questo movimento e il fatto che noi siamo riusciti ad entrare in Parlamento spinte dal movimento cioè quindi non è la società civile il movimento che si è sviluppato dopo CERAC Mobile è stato soprattutto guidato dalle donne erano spaventatissime per quello che insomma solo qua è venuto fuori che almeno tre di noi hanno avuto dei gravi problemi della tiroide quindi mi immagino che sarà stato diffuso questo problema e il piazza continuamente contro i nucleari tutto il movimento fatto per il referendum ha aggregato un sacco di persone così come Pinuccia ricordava anche la legge di iniziativa popolare rispetto alla riconversione delle fabbriche d'armi quando abbiamo lanciato questa cosa ci sono state delle fabbriche che hanno dovuto chiudere hanno spaventato da queste cose che noi stavamo facendo hanno dovuto chiudere ma questo vuol dire che noi però avevamo unito movimento e istituzioni oggi le ragazze questo è il problema ma anche i ragazzi giovani non credono più al fatto delle istituzioni rappresentative c'è una crisi anche per cui questo libro è fondamentale perché ricorda un'esperienza collettiva ci sono tutte le documentazioni io ricordo che avevano messo in evidenza la causa principale era la speridità crescente di donne ma anche gli spermatozoi non erano più capaci di dare un'attività quindi abbiamo sì i problemi oggi di stop alle nascite dovute al disagio alla povertà ma anche all'esperidità che non si conosce non si dice non si magari si va a cercare la nutria in affitto e non si cerca di capire come risolvere questo problema l'esperidità viene essenzialmente dall'inquinamento approvato dal nostro cibo e così via il fatto che ci sia stato una forza istituzionale che si collegava a un movimento è stato determinante e oggi non c'è cioè è cominciato forse con Grillo magari finisce ci servire di più perché ce ne è più tu probabilmente quando i 5 stelle si sono presentati la prima volta era un movimento e avevano preso un terzo della rappresentanza in Parlamento ma credo che sia stata un po' l'ultima volta e non lo so perché questa cosa si è abbastanza sfrangiata per tutti anche se le 5 stelle comunque oggi rappresentano un punto di riferimento non indifferente sia a livello di movimento che a livello istituzionale chiuderei qua era una domanda ma credo che ormai il tempo sia scaduto mi interessava dato che si era parlato della mancanza di diritti della natura questo è un tema che a me sta moltissimo a cuore perché in ambito filosofico è stato ed è continua ad essere estremamente dibattuto c'è un famoso libro di Michel Serre sul contratto naturale un nuovo contratto che l'uomo dovrebbe stipulare con la natura che ha avuto molto seguito ma più concretamente ecco io volevo sapere da Paolo che cosa pensa del Tribunale Internazionale dell'Ambiente perché io credo che sia una cosa molto importante io ho conosciuto Postiglione ho conosciuto Paolo Maddalena proprio in occasione dell'Earth Summit e devo dire che questa idea del Tribunale Internazionale dell'Ambiente mi ha sempre molto colpito oggi si parla sempre più di giustizia ambientale si parla Ferraioli scrive la Costituzione della Terra credo che adesso non ci sia tempo per affrontare l'argomento però io sarei molto molto interessata se se ne potesse parlare se voi credete successivamente o se comunque Paolo potesse dirmi qualcosa grazie allora non sono un esperto in questo però sì quello che posso dire che credo in questo tipo di iniziative anche se e lo vedrete ancora di più con la prossima sessione di fronte a noi abbiamo gli attori che viaggiano con le Ferrari mentre noi siamo qua con l'R4 o con la 500 nel senso che ormai la battaglia diciamo il tema del dare un prezzo alla natura è una battaglia che è quasi di retroguardia a giorno d'oggi per il mondo della finanza e delle grosse corporation perché i soldi veri li stanno facendo sempre sulla pelle e sulle spalle della natura attraverso meccanismi di controllo diciamo genetico con l'agricoltura digitale con la geo-ingegneria con i DSI con la digital sequence information cose di cui io da tempo sto cercando di vedere se si trova qualcosa in giro in Italia mi pare che non ci sia praticamente nessun tipo di dibattito su questo e vi anticipo appunto che una grande battaglia cioè i soldi veri si stanno facendo attorno a questa diciamo a questi pezzetti di DNA e RNA che sono diciamo delle informazioni di sequenze digitali fra chi sostiene che debbano entrare all'interno della CBT della convenzione del 92 e chi dal punto di vista settore privato corporation e tutte le gaffa perché si trascina dietro tutto il tema dei big data insistono al dire di no i soldi veri cioè quando andiamo a guardare il peso dell'industria farmaceutica cioè quanto viene guadagnato utilizzando questo tipo di risorse che all'inizio sono prese essenzialmente nei paesi del sud stiamo parlando di qualcosa come 1.5 trilioni di dollari o per l'industria farmaceutica 600 miliardi di dollari di profitti e cioè questi giocano a questi livelli qua hanno bisogno di un governo se lo comprano quindi il ragionamento che porterò avanti la prossima volta è che rendiamoci conto cioè con che razza di mastodonti pensiamo di poter andare a combattere che sono mastodonti che alla fine funzionano tutti su una logica non solo maschile ma di tipo patriarcale di conseguenza se pensiamo di andare a giocare le partite nello stesso campo loro è come mandare la squadretta qua di dove vivo io di Anguillara e giocare una partita contro il Real Madrid di Ancelotti è già persa è inutile pensare di cambiare qualcosa a quei livelli però però ci sono sono dei giganti dei piedi d'argilla perché tutto parte dalla costruzione del sistema capitalista che parte da casa dalla sfera domestica quindi mi va bene che si parli della natura ma come in generale non sono contro che si parli dell'agroecologia ma finché non si parla dell'agroecologia o della natura senza capire le questioni di asimmetria fra maschi e femmine e quindi di perdita di potere che esiste da parte del mondo femminile è tempo perso mi sta bene che se ne parli ma non credo proprio che saranno battaglie che porteranno da nessuna parte mi scuso per la franchezza ma mi è chiesto un'opinione e la do se non ci sono altre domande direi che potremmo terminare qui per oggi direi di sì ringraziamo veramente non solo cioè senz'altro appunto Laura Cima per le sue interessantissime riflessioni Paolo Groppo anche per veramente la complessità anche dell'analisi che ci ha restituito e anche tutte le suggestioni che trovo sempre profondissime da parte di tutti compreso il primo intervento di Enzo Tortello che veramente mi è piaciuto tantissimo e poi confidiamo appunto che queste nostre lezioni siano poi diffuse quanto più è possibile proprio anche per il carattere informativo che rivestono quindi grazie a tutte e tutti i presenti e grazie a martedì prossimo ricordiamo il prossimo appuntamento magari martedì prossimo alle 5 ci sarà la seconda lezione la seconda sessione che continuerà il corso dal titolo verso verso un neocolonialismo digitale esatto i relatori sono sempre gli stessi aspettano